ben ritrovati di nuovo su reviewing you breve recensione di questo puntale di natale a forma di stella tridimensionale allora sono andato a posizionarlo sull'albero di natale a 2 metri 40 quindi perdonatemi scusate se non riesco ad avvicinarmi troppo ma non è anche qui con me la scala comunque volevo condividere con voi questa stella di natale che l'ho pagata esattamente 20 euro link in descrizione di amazon e devo dire che tra tutte quelle che ho visto sfogliato su anno se quella più bella e più elegante allora come potete vedere a una forma tridimensionale faccio il giro così potete vederlo anche da dietro una forma veramente bene tridimensionale e c'è un tocco di design che non è da poco vado a zoomare maggiormente all'interno dei led calda luce calda e c'è tutti questi filamenti esterni che la ricoprono dorati che sono in metallo quindi non stiamo parlando di carta di plastica è veramente bella da vedere al di sotto come vedete c'è una spirale che serve per infilare la vostra punta dell'albero io per infilare la punta di questo albero sono dovuto andare a creare una struttura diciamo in ferro in modo che appunto potesse infilarsi dentro la stella e sorreggerà perché la punta dell'albero è veramente poco poco spessa quindi magari per un puntale di plastica andrebbe bene ma per una stella che comunque c'è una certa grammatura non è il massimo vi dico subito le dimensioni della stella abbiamo 25 centimetri di altezza e 21 centimetri di larghezza e vi dico subito che l'alimentazione è quella delle pile due anzi tre pile a a quindi assicuratevi acquistare le pile e come vedete c'è un piccolo cavo che dalla stella va a finire dentro questa scatoletta adesso prima posizionata all'interno nascosta questa scatoletta bianca da cui troverete uno switch che premendolo mi permetterà di accendere e di spegnerla prodotto veramente interessante mi è piaciuto lo ricomprerei sicuramente se avete domande non esitate a porvele link in descrizione della stella alla prossima review